che me l'ha fatto qualche volta, questo festival a Calvizia. Diciamo che questo è nato da un'idea, insieme a Peppe Cavalli inizialmente, inizialmente c'è un altro direttore artistico che voglio ricordare che quest'anno è con noi, ma penso, spero, tornerà negli anni prossimi, che è il manno di Simone a cui facciamo un applauso perché ha iniziato insieme a noi questo percorso. Perché avete fatto questo evento? Diciamo che l'idea quando sono stato eletto sindaco era quella di portare Calvizzano oltre i confini locali, cioè far conoscere il mio paese a livello nazionale. E qua mi viene in mente una frase che ho letto qualche anno fa nel Grattacielo di Dubai, una frase dello Scecchi, in quale diceva, scriveva, perché lui si è osanna, si erge a padrone di quella città, è stato scritto che un vero leader, è colui che è capace di realizzare i miracoli. Ora voglio dirti, non abbiamo i soldi dello Scecco, però già a nord di Napoli avere un comune che funziona, avere strade non rotte, avere strade pulite, non avere l'erba vicino ai muri, già è un mezzo miracolo. Ma te lo diciamo sempre. Portare poi un evento del genere alla ribatta nazionale vi posso garantire che è un vero miracolo. Quindi, pigliando a spunto da quella frase, voglio dire che stiamo cercando di fare un vero miracolo qua a nord di Napoli e spero che questa manifestazione sia un punto di riferimento più buon!